Dove scappi? Seggiora, ciao! Oggi compie la notizia a Luigi. Voglio mandare a lui su Facebook. Sì, li ha mandati. Ha detto oggi sì, li hai mandati. Dice, seggiora che stai facendo di bene? Dice, seggiora che stai facendo? Rispondimi su Facebook e sul computer. Ma Giovanni, noi stiamo sul giardino. Giovanni sta alla casa. Vuoi dire a Billy? Mi sono bella. Mi sono bella, guarda Billy. Che bella testa che tende, che bei capelli, guarda Billy. Billy saluta, fai ciao. Aspetta. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E la devi di risponderci su Facebook. Rispondi su Facebook. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Provizie a tutti. Grazie.